DJ chiama Italia Perché è bello raccontare di queste cose per interposta persona, ma quando c'hai uno che ha visto da vicino uno andare al bar e ordinare due bottiglie di champagne, non gli le danno, esce, rientra, appoggia il mitra e dice due bottiglie di champagne, grazie e voi tutti contro il muro, cioè è diverso come racconto, hai voglia, è così che andava? Eh io ero contro il muro, ero contro il muro, Teo Teoccoli, buongiorno a tutti, perché tu hai fatto il derby che era questa accademia comica di Milano negli anni 70, negli anni 70 insomma Sì, hanno cominciato negli anni 60, 70, 80, sono stato 15, 16 anni, ma negli anni 70 c'è stato il momento di grande esplosione dove venivano tutti perché il bar lì chiudeva alle 4 del mattino e il bar era tenuto da un pregiudicato E quindi già aveva le sue conoscenze insomma, dopo una certa ora passavano i suoi amici C'era la sua clientela ovviamente, allora a una certa ora passavano e poi non era poi tutto così allegro, cioè alcune serate si rideva, loro erano molto, come dire, molto gentili con gli artisti, molto educati Però capitava, però bastava una cosa così che ti facciano scoppiare la palazzina Capitava, come capita per esempio a noi di Sgiocchi che c'è un cliente un po' di questi abituati a essere trattato con riguardo che a noi ci chiede una canzone, nel vostro caso magari chiedeva uno sketch Fammi, non è giusto come te, fammi cacca, tu non c'hai voglia Non c'ho voglia, ma sei pazzo Non vedevi l'ora di farla No, la dovevi fare perché è un new job per vedere che devo andare via, devo andare via perché c'è un affaretto da mettere a posto, ecco, quando dicevo queste cose qui Mi è piaciuto quello che mi raccontavi prima a Fuori Onda, del fatto che se per caso scoppiava fra loro una piccola litigata Ah sì, io purtroppo ho assistito due o tre litigate perché insomma io lavoravo di notte come tanti miei colleghi Renato, Cocchi, Boldi E allora se scoppiamo una rissa tra malavitosi, la prima cosa che facevano, in un nightclub per esempio, la prima cosa che facevano chiudevano la porta E mettevano via la chiave Come ogni film americano E no perché qui adesso non esce più nessuno Non esce più nessuno perché chiunque usciva poteva dire giù da basso c'è un casino, capito E allora c'era gente magari in abito da sera, erano le 9 al mattino, erano ancora con l'abito lungo, con tutto il trucco giù E non potevi neanche chiedere perché se dicevi senta io E discutevano animatamente loro? E beh sì, una volta c'è stata una discussione tra Turatello e un altro, insomma uscirono le pistole E insomma cose che succedono, che succedevano perché poi se vogliamo analizzare bene la cosa Erano malavitosi a vista, cioè si conoscevano, facevano alcune cose esagerate Ad esempio c'è stato quel pluriomicidio a Zambellino dal benzinaio dove morirono quattro persone E quello scaturì da un fatto che queste persone erano andate a giocare nella bisca di Turatello Havano perso tutti i soldi, sono tornati col mitra e hanno fatto una dura, che cioè una rapina Havano fatto una rapina a casa di Turatello, insomma in pratica Del biscaziere Del biscaziere E quindi dopo una settimana ci fu il regolamento dei conti E invece quella volta di te e Boldi com'è che era? Quale? Sono delle pistole di te e Boldi Ma si possono raccontarsi? Eh beh dai Sono in prescrizione dai Beh c'erano due della banda di Turatello che quando noi lavoravamo in un locale si chiamava il Village Con l'Imbrera Sì che prima Caffè Roma poi Village così E Boldi e io lavoravamo lì, lavoravamo lì E allora quando venivano giù questi due, uno lo chiamavano Paul Newman perché lontanamente assomigliava a Paul Newman E l'altro Carlo Argento così, quando arrivavano tiravano fuori la pistola, una beretta Parabellum e ce la mettevano alla gola E diceva allora, per ridere Per ridere, se parte un colpo la vedi la testa di Boldi dove va a finire E Boldi diceva E Boldi cosa diceva? No, 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 no Oh il cazzo lo schiacciamo, lo schiacciamo, dai, 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 dai E allora, se questi locali poi ve ne racconto delle altre, dai Perlomeno sei ancora qua sia te che Boldi a raccontarvi Sì Questa è Radio DJ e questo l'avete riconosciuto E Giovanotti, baciami ancora Un bellissimo